Salute, fratello di scudo. Certo, io e i miei compagni precursori ci scaldavamo qui, nel tentativo di sfuggire a Oersin. Vedi solo me, poiché il tuo cuore mi riconosce come unico capo dei compagni. Sono certo che il vecchio Vignar potrebbe vedere una mezza dozzina di miei predecessori. E io li vedo tutti, quelli a Sobergard, quelli intrappolati con me nel regno di Oersin. E tutti loro vedono te. Hai dato lustro al nome dei compagni. Non ti dimenticheremo facilmente. Davvero? Posso solo sperarla. Hai ancora le teste delle streghe? Benissimo, gettane una nel fuoco. Così il loro potere si libererà, almeno per me. Bene, bene. Un altro verme da spiacciare sotto l'instituto. Non c'è alcuna traccia. Salute, fratello di scudo. E così è stata uccisa la bestia dentro di me. Grazie per questo dono. Gli altri precursori, però, sono ancora intrappolati da Oersin. Forse da Sovengard gli eroi del passato possono unirsi a me per aiutarli. L'ordalia del territorio di caccia sarebbe una gloriosa battaglia. E magari un giorno ti unirai a noi in quella battaglia. Ma per oggi torna a Giorvascola. Goditi il tuo trionfo. E guida i compagni verso onori ancora più grandi. Le lune stanno cambiando, fratello. Ho sentito bene. Ha detto che la guida dei compagni spettava te? Ne hai guadagnato il diritto. La tua forza e il tuo onore sono noti a tutti. E sono onorata di essere la prima a chiamarti precursore. Andiamo a dirlo agli altri. Andiamo a dirlo agli altri. Andiamo a dirlo agli altri. Grazie a tutti.